Continua incessante l'attività d'indagine e controllo operata dal nucleo di polizia marittima ed ambientale della Capitaneria di Porto di Termoli, a tutela del demanio marittimo e dell'ambiente e degli habitat naturali marini e costieri. I militari della Guardia Costiera hanno riscontrato nei pressi della foce del fiume Biferno un'area estesa di circa 150 metri quadrati sulla quale vi era un deposito abusivo di rifiuti speciali pericolosi, costituito da un cospicuo quantitativo di ethernet e materiali contenenti amianto, oltre che a scarti di demolizione, materiale bituminoso, elettrodomestici, fusti in plastica, come state vedendo in queste immagini. L'intera area è stata posta sotto sequestro e proprietari dei terreni, a seguito di specifica attività d'indagine, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, in quanto area nei pressi del demanio marittimo è posta in prossimità della costa sulla quale insiste una zona oggetto di particolari tutele ambientali, ove possibili percolati potrebbero arrecare danni all'ambiente marino e agli habitat costieri in generale. La Guardia Costiera pone particolare attenzione all'ambiente, perseguendo comportamenti illeciti attraverso gli strumenti giuridici forniti dalle norme vigenti, al fine di preservare la specie marina e le biodiversità delle specie acquatiche in generale. Grazie. 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 Grazie.